Ora con Adriano Albano andiamo a scoprire Villa Ebbe, un giardino ritrovato. Vediamo. Resta una ferita aperta per Napoli, il degrado che erode il castello di Pizzo Falcone. La Villa Ebbe di Lamont Young, proprietà del comune, dopo un devastante incendio, è divenuta rifugio per chi non ha niente. Fino ad oggi la costruzione era anche assediata da una coltre di arbusti e piante rampicanti. Ora quel giardino torna ad essere baciato dal sole grazie all'intervento di un'associazione che da sempre cerca di rivalutare le rampe di Pizzo Falcone. Abbiamo lanciato un'iniziativa di beneficenza che è stata lotteria per un giardino dove, con un quadro di Pasquale della Monaco in palio, i nostri amici dell'associazione, gli abitanti del quartiere, hanno contribuito partecipando a questa lotteria e il risultato è stato appunto che siamo riusciti a finanziare questa operazione importantissima. Il panorama, le mura del castello Le Mont Young, grazie alla fiducia che ha dato il comune di Napoli, risplenderà di nuovo. L'energia positiva esiste e noi continuiamo. Il comune ha deciso di dare spazio alla volontà dell'associazione in attesa che un'opera di recupero più consistente restituisca alla città questo gioiello del Liberty. Questa è una sfida ancora più grande perché è un giardino importante per il posto dove si trova, per la storia che c'ha e anche per lo stato in cui era ridotto. Dentro resta la situazione che abbiamo documentato in passato. Tonnellate di rifiuti aumentano il rischio di nuovi incendi o crolli. Intanto un primo passo con il recupero del giardino è stato fatto. A breve la programmazione degli eventi che saranno organizzati all'ombra degli alberi di Villa Elia.